TED è una iniziativa che nasce 40 anni fa in America per dare divulgazione alle idee che possono cambiare il mondo. Come arriva a Pesaro? Arriva perché da qualche anno c'è la possibilità di realizzare nei vari stati del mondo delle iniziative indipendenti. Noi abbiamo avuto questa possibilità attraverso una richiesta che viene fatta, una richiesta formale che viene fatta di concessione di licenza. E questo naturalmente ci inorgoglisce, siamo arrivati al dunque, è parecchio tempo che ci stiamo lavorando, è praticamente quasi un anno che abbiamo la licenza in mano, ma sono 4-5 mesi che stiamo lavorando a questa data e questa data a questo punto è arrivata. È una cosa che ci ha colpito molto la forza del brand, eravamo già sicuri del fatto che l'idea di realizzare questa serata che è appunto targata TED fosse vincente, ma non pensavamo che si riuscisse ad arrivare al sold out prima ancora di aver annunciato i relatori. Relatori che noi abbiamo selezionato, che abbiamo scelto con molta cura e molta attenzione per creare una scaletta varia e articolata e che si proporranno, proporranno i loro argomenti nella serata del 22 al Cinema Astra con inizio alle 20. Naturalmente tutto questo lo diciamo a chi purtroppo non potrà venire e a chi invece si è conquistato il biglietto andando sulla fiducia appunto a comprarlo dal sito. Perché tutto questo entusiasmo? Perché sì, perché questo è l'anno giusto, perché portare un TED a Pesaro era un obiettivo che avevamo da tantissimo tempo, ci siamo ritrovati io, Cristian, tutti i ragazzi dello staff, Antonino Di Gregorio a far confluire in una situazione reale un'idea che coava in noi in alcuni casi anche da più di 10 anni, 10, 12, 15 anni. Il ruolo del presentatore di TED è veramente importante proprio perché deve condurre le persone in un viaggio, perché il TED è un viaggio di questi speech che vengono raccontati dagli speaker che hanno il ruolo di dare delle declinazioni diverse di quello che è il tema di un TED. Per dire, noi quest'anno proponiamo il tema dei limiti e i limiti si possono declinare in tantissime forme e quindi ogni speaker avrà questo ruolo di declinarlo nella propria maniera e raccontando, diciamo, dando la possibilità a tutti quanti di raccontare la propria esperienza e anche le persone di medesimarsi nelle loro vite. TEDx Pantano nasce grazie alla volontà di alcune persone che hanno fondato appunto un'associazione culturale apposita, che si chiama Spazio Rosso, dove all'interno, grazie appunto alla volontà di volontari che fanno questa cosa senza alcun contributo, solo per la passione della cultura, hanno appunto creato e gestito tutto quello che è un evento unico, che si può svolgere solo in un'unica serata e solo dal vivo, perché questa cosa non si può poi vedere in altri modi, non ci sono repliche, non c'è streaming, non c'è altro, se non appunto l'evento in sé che avviene in questo caso, nel nostro caso nel Cinema Astra, il 22 marzo, quindi venerdì, poi successivamente verranno caricati questi talk, questi speech sulla parte dello speech, vengono caricati sul canale ufficiale del TED. Dicevo, associazione culturale che nasce sia per creare questo TED, ma non solo, cioè è il punto di partenza il TED, il TEDx, ma abbiamo da statuto questa ambizione di fare tanti altri eventi divulgativi culturali, anche a scopo di ingresso gratuito ovviamente, per la semplice volontà di diffondere quanto più cultura è possibile.